Consistenti carichi di cocaina dal Sud America o dalla Calabria, spediti attraverso ignari corrieri DHL e nascosti dentro caffettiere, libri o pedane in legno e destinati alle piazze di spaccio di Palermo e dintorni. Sono 19 le persone arrestate questa mattina dal GOA della Guardia di Finanza insieme alla squadra mobile di Palermo, nell'ambito delle operazioni Cinisaro e Meltemi, coordinate dalla locale DDA. Gli arrestati, tutti riconducibili a distinti sodalizi criminali tra le province di Palermo e Trapani, sono accusati a vario titolo di reati in materia di stupefacenti aggravati dalla trasnazionalità. L'indagine antidroga avrebbe infatti permesso di smantellare un giro d'affari, riemerso dopo che ormai sembrava essere dimenticato e legato ad una Sicilia degli anni Ottanta, ovvero quello dei cartelli colombiani della droga. Al centro dell'inchiesta, un vecchio trafficante di Carini, Alessandro Bono, di 38 anni, che è vicino ai narcotrafficanti operanti in Venezuela, Ecuador e Colombia, era riuscito a trovare un sistema per far giungere in Italia, per via aerea, via terra o per mare, ingenti quantità di cocaina purissima, che poi veniva trasportata in Sicilia e smistata tra i distributori di fiducia tra Carini, Capaci, Isola delle Femmine, Partinico, Trapani, Mazzara del Vallo, Marsala e Salemi. 13 in tutto i destinatari del provvedimento di custodia cautelare, 4 i soggetti posti agli arresti domiciliari, mentre per altri 3 è stato disposto l'obbligo di firma.